benvenuti sul canale oggi volevo condividere con voi dei momenti che per me sono magici di solito durano solo pochi secondi a volte sono talmente brevi che se non siamo pronti con la telecamera si perdono completamente però sono attimi che mi riempiono tanto la giornata e la rendono proprio una giornata speciale vorrei sapere se a voi capitano o succedono solo a me un po' di solito Grazie a tutti Grazie a tutti